Beh la passione nasce direi prima dei cinque anni da leggende che minarono i miei genitori perché mi arrampicavo ovunque in casa, sui mobili, pianoforte, quindi capisci che non ero troppo sicuro e per raccontarti un aneddoto che mi raccontano sempre hanno dovuto installare un cancelletto senza ringhiere, proprio un pezzo di legno che non potevo scavalcare per non farmi scendere le scale e invece sono riuscito a scavalcarlo, riuscire comunque e quindi dopo non è servito molto diciamo in quel momento però è ancora casa, infatti è un pezzo di storia bello quando ci siamo trasferiti qua in Emilia all'età di più o meno cinque anni mi hanno portato per la prima volta in una palestra erampicata e lì ho iniziato a scoprire questo mondo dove più che trovare uno sport ho trovato un ambiente in cui mi divertivo e riuscivo a giocare con tutti quanti